ciao a tutti e benvenuti sulla biblioteca del bosco io sono letizia ed oggi book haul del mese di novembre qua ho tutti i libri che ho acquistato questo mese e siccome ho fatto una promessa questo mese non ci saranno più di 15 libri all'interno del video all cioè nel senso non ho acquistato più di 15 libri perché il mese scorso ho letto 15 libri ok sei erano fumetti ma lasciamo stare comunque in totale il mese scorso ho letto 15 cose e quindi questo mese non potevo superare l'acquisto di 15 libri usati non usati non importa 15 dovevano essere e 15 sono rimasti per ora anche se devo ammettere che visto che siamo nel periodo del black friday ci sono un po di sconti e ci sono due libri in particolare che costano particolarmente poco che mi stanno chiamando quindi io spero di resistere in caso non riuscissi a trattenermi questi libri acquistati finiranno nel video haul di dicembre e faranno parte dei libri acquistati a dicembre quindi non avrò comunque la giustificazione per acquistare di più il mese prossimo mi baserò sempre sulle letture fatte il mese precedente ecco così almeno mi do un limite comunque anche se possono sembrare tanti ho effettivamente comprato 15 libri questo mese che se siete abituati ai miei book haul sono pochi in proporzione però questo mese appunto ci ho dato tanto in libreria alcuni libri li ho ordinati e altri invece li ho acquistati qualche giorno fa proprio perché erano scontati grazie al black friday partiamo quindi con gli acquisti fatti in libreria e il primo che vi mostro è lui questa meraviglia questa opera d'arte che altro non è che è Harry Potter e il prigioniero di Azkaban di appunto JK Rowling illustrato da Mina Lima io aspettavo questo volume da tantissimo anche perché questo è il mio libro preferito di Harry Potter è meraviglioso e se volete vederlo in maniera più dettagliata vi ho fatto un vlog in cui ve lo mostro proprio lo sfoglio insieme a voi e il vlog è un pochino lunghetto quindi semmai guardate nell'indice il punto in cui vi mostro il libro anche perché effettivamente è un libricino dal prezzo importante stiamo parlando di 45 euro quindi mi rendo conto che non sia la portata di tutti però se amate la saga di Harry Potter e vi piacciono i libri illustrati di Mina Lima soprattutto questo è veramente una meraviglia forse tra tutti è il più bello scusate ma c'è l'allo qua c'è il mio cane che voleva le coccole una cura hanno questi libri veramente spettacolare diciamo che questo è un libro che ho acquistato per collezionismo puro altri due libri che ho acquistato praticamente appena sono usciti sono Vertigine di cui mi avete sentito parlare nel wrap up del mese perché appunto l'ho acquistato mi sono trattenuto un pochino però dopo un po' l'ho letto si tratta dell'ultima uscita di Frank Tilly che in realtà non è un'ultima uscita perché questo libro è stato pubblicato in Francia ben otto anni prima dell'uscita del manoscritto mi ricordo quindi nel 2011 se non ricordo male quindi in questo caso la scrittura di Tilly è un po' acerba effettivamente si vede praticamente si tratta di un libro che racconta una storia di sopravvivenza tra tre uomini che si ritrovano intrappolati all'interno di un ghiacciaio qualcuno ovviamente li ha intrappolati lì appositamente e due di loro sono incatenati e uno invece indossa obbligatoriamente una maschera di ferro che appunto gli impedisce di mostrarsi agli altri non vi dico nient'altro se volete saperne di più guardate il video wrap up che è tanto appunto al minutaggio nell'indice quindi se non volete vedere le altre recensioni ma vi interessa solo lui non vi faccio perdere tempo Ni l'ho acquistato subito sì ok basta fine sinceramente potrebbe anche essere uno di quei libri che consiglierei di aspettare all'usato perché secondo me non ne vale tanto la pena a inizio 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 mese invece poi mi è arrivato finalmente Il Re delle Volpi di Fiore Magni è un libro che ci ha messo un po' ad arrivare perché da quel che ho capito ha avuto un pochino di problemi per quanto riguarda le ristampe e infatti un po' in tutte le librerie è arrivato tardi comunque è un fantasy appunto scritto da Fiore Magni che io seguo molto volentieri su Instagram di cui ho già letto nel buio della casa che ha scritto insieme a suo marito Michele Monteleone e parla del magico incontro di una giovane ragazza appena diciottenne con una volpe che le fa una proposta se la ragazza aiuterà la volpe in un'impresa particolare la volpe esaudirà uno dei desideri più grandi della ragazza apprezzo molto Fiore Magni sia per come scrive sia anche nei suoi contenuti social mi sembra una persona molto genuina e niente quindi ho deciso di acquistarlo nuovo per dare anche il mio supporto alla scrittrice e di ordinarlo anche in libreria proprio per far vedere ecco che insomma c'è richiesta poi ho acquistato un'altra novità La gabbia dei conigli di Tess Gunti che è un racconto particolare all'interno dei miei acquisti di questo mese soprattutto quelli fatti in libreria ci sono molti libri strani libri di cui per parlarvi al meglio non posso fare a meno di leggere la quarta di copertina e questo è uno di quelli L'edificio ha visto tempi migliori ed è arrugginito all'esterno quanto lo sono le persone all'interno gli inquilini si sentono senza scampo e senza prospettive come si può esserlo solo in una cittadina del Midwest americano dove la depressione post-industriale si mescola a speranze di rinascita quasi sempre disattese tra gli abitanti del condominio una madre alle prese con i primi vagiti del figlio e un'oscura ossessione un ragazzo che cerca di vendersi su internet una donna che si guadagna da vivere moderando i commenti su un sito di necrologi spicca la troppo bella e troppo intelligente Blandine che vive nell'appartamento 4C insieme ad altri tre ragazzi segretamente infatuati di lei Blandine però un po' li disprezza e senz'altro non li capisce lei è innamorata del professore del liceo ossessionata dalle agiografie decisa a raggiungere l'estasi per arrivare alla felicità e occupata anche a gestire problemi quotidiani come la piccola capretta che trova ferita nel parco e che decide di portare nel suo appartamento non sa che i suoi coinquilini ogni settimana compiono bizzarri riti di sangue in suo onore quindi se già qua sembrava tutto normale qua comincia il torbido non sa che uno dei suoi vicini di casa sta rischiando la vita non sa che lei come tutti loro è prigioniera di una gabbia da cui sembra impossibile uscire benvenuti nella gabbia dei conigli ecco con una trama del genere io appena l'ho letta ho volato altissimo oltretutto questo libro l'ho sentito consigliare dal ragazzo di Spigoli su Instagram vi lascio il suo profilo qua sotto questo ragazzo poi ha anche un canale YouTube che io seguo assiduamente perché consiglia dei titoli veramente fantastici e ha un modo di descrivere e raccontarci libri veramente meraviglioso secondo me che io gli invido tantissimo quindi niente appena consiglia una cosa io compro ed è stato appunto il caso di questo libro come ho acquistato anche questo di recentissima uscita però senza il consiglio di nessuno semplicemente l'ho visto e ho detto sai che c'è perché no dammi il tuo cuore di Joyce Carol Oates che è una raccolta di racconti siccome io della Oates ho tanti libri sia in libreria che in wishlist che vorrei leggere ma non l'ho mai affrontata apertamente fino adesso allora ho deciso di acquistare questo perché magari potrebbe essere un'idea interessante iniziare a leggere dei racconti brevi della Oates che sono tutti comunque estremamente disturbanti cioè il filone di questi libri che sono tutti abbastanza disturbanti infatti già in libreria ho cominciato a leggere la prima parte del primo racconto ed è veramente assurdo quindi molto molto curiosa di leggerlo poi l'ultimo haul quindi l'ultimi acquisti avvenuti su Amazon sono questi tre libri qua due del saggiatore che devo dire che è una casa editrice che ho sempre un po' snobbato ma da quando ho cominciato a leggere qualche libro appunto uscito con loro è diventata praticamente una delle mie case editrici preferite perché sforna dei titoli veramente interessanti Bim Bum Bam Che Tamina anche questo è un libro di cui vi devo leggere la quarta di copertina perché è veramente un libro allucinogeno veramente cioè praticamente tu leggi questo libro ed è come se avessi preso qualche sostanza perché siamo veramente all'assurdo Bim Bum Bam Che Tamina è la storia di un mondo isterico e ultraviolento impaziente e tossico che vive assieme la tragedia dei suoi ultimi giorni e il trionfo del suo desiderio di vita è il racconto della realtà per come appare al di là dei nostri filtri dovrebbe essere una sorta di distopico che però si discosta molto poco dalla realtà attuale cioè è come se elevasse ciò che già sta succedendo nei giorni oggi soprattutto per colpa o grazie ai social e lo eleva all'ennesima potenza la voce che ci accompagna all'interno di questo gorgo terribile ed esilarante è quella del tutto fare Roberto trentenne senza ambizioni e senza soldi creatura crudele e ingenua un uomo in affitto che si procaccia sempre lavori mal pagati finendo dentro situazioni più assurde pare il personal shopper assistant o l'official emotions manager di un influencer che decide di sposare se stessa guardare i video di una chef che dopo anni di violenze subite se vizia il marito in diretta Instagram smaltire rifiuti dal laboratorio di una scienziata che costruisce una fascia artificiale per essere identica alla sua amica del cuore fare psicoanalisi con un'intelligenza artificiale orbitare tra web star rifatte che scelgono di infilare una mano in un frullatore in live quando non sanno più come intrattenere i propri follower cioè capite capite perché ho dovuto prendere questo libro testimone di un universo pazzo ed esasperato che rifiuta ogni regola e ogni morale Roberto racconta in queste pagine la sua quotidianità surreale tratteggiando allo stesso tempo la propria incapacità di trovare un posto nel mondo e la tanto temuta per alcuni sperata autoestinzione del genere umano geniale 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 io non l'ho ancora letto ve lo giuro ma sono già estasiata da questo libro geniale poi sempre del saggiatore invece ho preso un libro e un altro libro che ho visto citare dalla stessa persona cioè Giulia di Elonti Willow io ogni volta il suo nome del canale del profilo lo pronuncio male quindi io ve le lascio tutti qui nell'info box perché lei insieme appunto al ragazzo di spigoli sono le persone da cui trago più ispirazione perché citano titoli interessanti e soprattutto che non si vedono spesso perché di solito quando va di moda un libro su booktok su youtube vengono sempre citate le soliti titoli ecco invece da loro sento cose particolari perché secondo me hanno proprio loro degli interessi un pochino meno di cioè un pochino più di nicchia ecco diciamo così quindi ho preso Nell'abisso di Anthony David che è una raccolta di 12 racconti se non ricordo no 7 capitoli scusate che parlano appunto dell'abisso in cui la nostra mente così fragile può precipitare quindi sono racconti di pazienti che lo scrittore si è ritrovato davanti molto molto particolari un po' sul filone dell'uomo che scambia sua moglie per un cappello di Oliver Sacks ecco più o meno siamo su quei livelli questo scrittore ci sta raccontando le esperienze mentalmente instabili più strane che ha incontrato nella sua carriera di non mi ricordo se psicologo o psichiatra neuropsichiatra sì ok e tra queste ci sono Patrick che è convinto di essere morto e di non conoscere la donna con cui è sposato da 20 anni Emma che è in stato vegetativo da quando era bambina eppure non presenta alcun danno celebrale Jennifer sente le voci nella testa che le intimano di uccidersi Amy è scossa da convulsioni alimentate da un trauma insondabile insomma questi sono alcuni esempi però insomma capite che sono cose pesanti ma al contempo molto particolari e singolari che non si incontrano spesso e sempre da lei ho preso consiglio per acquistare operatori e cose confessioni di una schizofrenica di Barbara O'Brien questo è praticamente il racconto di una donna che ha a che fare con un'improvvisa schizofrenia lei un giorno si sveglia e si ritrova davanti al letto tre uomini che lei chiama operatori appunto che sono praticamente ovviamente creati dal suo cervello dalla sua testa e quindi da lì scopre di aver contratto si può dire la schizofrenia che poi riesce a guarire da sola in autonomia quindi lei è il racconto di questi sei mesi da schizofrenica che è della particolarità e anche di come ne si è uscita da sola e soprattutto del fatto che lei non abbia subito tutto ciò che può subire una persona che ha avuto questi questi problemi e che però insomma è stata conosciuta anche per questo cioè quando una persona magari ha problemi di questo tipo e poi guarisce viene sempre guardata dagli altri come la persona che è stata invece in questo caso lei non ha subito tutto questo perché semplicemente è una cosa che si è tenuta per sé e che è riuscita a guarire tra virgolette da sola quindi è molto interessante secondo me come tema e niente è anche l'ultimo libro che ho acquistato nuovo passiamo ora agli usati che sono decisamente meno perché comunque sia adesso che la mia libreria è bella fornita cominciano ad esserci anche meno libri all'usato che mi interessano o quantomeno compro più singolo prima compravo più sette allora il primo libro che vi mostro è La cattiva strada di Paola Barbato che in realtà è un libro che mi avete già visto citare nel video sul calendario dell'avvento che ho fatto appunto per scegliere 24 libri dalla mia libreria che non ho ancora letto che leggerò l'anno prossimo e Paola Barbato scrive dei thriller bellissimi a me come scrittrice piace un sacco e niente non vi dico nient'altro più che altro perché io delle trame della Barbato di solito voglio sapere poco perché mi voglio lasciare stupire quindi comunque dovrebbe essere la storia di un ragazzo che si ritrova appunto a dover fare un viaggio con un camion che contiene cose non propriamente legali e che si ritroverà però un po' in difficoltà diciamo così poi in un unico ordine sono riuscita a recuperare i diabolici di oh madonna santa benedetta Boilò Norseyak adesso lasciamo stare la mia pronuncia come sempre allora è la storia di due amanti che decidono di far fuori il terzo incomodo se così si può dire è un libro che ho sentito citare da Matteo Fumagalli ne ha parlato molto bene quindi l'ho acquistato come anche da lui ma in realtà anche da molti altri me l'avete consigliato anche voi sotto nei commenti su YouTube sono riuscita a trovare finalmente cortesie per gli ospiti di Mickey One che come sapete insomma mi ha messo un po' in difficoltà in certe occasioni però tutti mi avete consigliato questo e quindi io era da un po' che lo cercavo non lo trovavo mai a prezzi convenienti finalmente ci sono riuscita quindi sono contentissima ed insieme c'era anche di Hankang Atti Umani Hankang è la stessa scrittrice che ha scritto La Vegetariana che è un libro che in realtà vorrei affrontare entro la fine dell'anno vediamo se ce la faccio perché insomma ho delle ho una TBR da leggere entro la fine dell'anno un po' troppo lunga forse un po' troppo ottimistica però so che questo libro è apprezzato a volte di più della Vegetariana che comunque è già di per sé è un libro che ho sentito lodare in parecchie situazioni quindi non so di cosa parli e non mi addentro neanche nella trama che è sul retro della copertina perché di solito non c'è scritto quasi nulla e sinceramente voglio anche andare un po' scatola chiusa con questo libro quindi va bene così ultimi tre libri di B.A. Paris La reclusa un thriller io vorrei leggere entro la fine dell'anno sempre di suo La psicologa che è uno dei suoi thriller più famosi e quindi niente ho trovato questo libro scontatissimo l'ho preso veramente a poco se non ero 4 euro con le spedizioni oltretutto scontate non ho capito bene il perché vabbè comunque si è tra un totale di 6 euro se non ricordo male l'ho pagato questo libro considerando che il prezzo originale è 19 non male poi ho acquistato Banni di Mona Awad allora questo è un libro molto molto strano perché parla di delle studentesse in particolare c'è una di queste che è la protagonista che vengono chiamate Banni quindi conigliette e che vivono in un mondo vorrei dire un po' kawaii ma temo non sia il termine giusto vabbè fatto sta che un giorno accettano l'invito a una festa e praticamente però scoprono che all'interno di questa festa ci sono dei rituali che trasformano delle placide studentesse in creature mostruose io non vi dico nient'altro perché effettivamente la trama di questo libro è un po' confusa perché all'inizio si spiega questo mondo molto zuccheroso in cui vivono queste studentesse e poi però alla fine ti sgancia sta bomba quindi non lo so mi ha incuriosito veramente tanto ce l'avevo in wishlist da tanto ed effettivamente non è neanche un libro che si trova facilmente all'usato però ci sono riuscita e sono contenta e ultimo ma non per importanza il libro illustrato del mese oltre a quello di Mina Lima che vabbè non lo considero neanche uno dei libri acquistati perché è un'opera d'arte comunque sono riuscita a trovare a pochissimo Swinging Christmas della Rizzoli illustrato dalla comb di Olivia Riuz è un racconto che oltretutto all'interno ha anche un disco per ascoltare le canzoni perché in questo libro si parla appunto di musica è un libro quasi per bambini ecco cioè come vedete infatti è scritto anche molto grande io cerco di recuperare sempre tutte le opere di la comb però ecco forse sto andando un po' troppo indietro ecco c'è sono contenta di averlo preso perché è molto bello e l'ho trovato veramente a poco però sono libri che si leggono veramente in 20 minuti neanche quindi sono però molto curiosa di sentire il disco se riesco a trovare il modo di farlo perché ormai non ho più modo per ascoltarlo non ho più niente che possa accettare un cd in casa e quindi niente cercherò il modo di ascoltarlo per sentire appunto le canzoni che ci vengono descritte all'interno del libro detto questo questi sono tutti gli acquisti fatti questo mese spero che come sempre il video vi sia piaciuto e vi sia stato utile noi ci vediamo alla prossima volta e fino ad allora buona lettura a tutti ciao ciao